appuntamento con il telegiornale Per i Sorti. Identificati dai carabinieri, quattro presunti autori della lite seguita da pestaggio, avvenuta nella notte del 29 di ottobre scorso a Prato, tra gli avventori di un ristorante nel parcheggio di via Ebensee, antistante lo stesso locale. Si tratta di quattro trentenni residenti a Prato e provincia. Determinante per gli investigatori sono state sicuramente le immagini estrapolate dal video amatoriale, diventato poi virale sui social nei giorni seguenti l'evento, stante appunto la feroce violenza con cui uno dei contendenti colpiva l'avversario, oramai in terra, con due calci al volto. La stazione del soccorso alpino di Massa è intervenuta la notte scorsa nella Valle degli Alberghi, sulla ferrata del Monte Contrario, per aiutare due giovani escursionisti, 19 anni, originari della provincia di Siena, rimasti bloccati dopo il primo tratto della via che risulta attualmente chiusa per interventi di manutenzione. I due giovani, che si trovavano sulle Apuane già da un paio di giorni, hanno intrapreso la risalita della via ferrata molto tardi, intorno alle 16. Dopo aver superato i primi 60 metri di dislivello, sono giunti ad un pianoro dove hanno trovato lungo il tragitto il cavo danneggiato e nel frattempo le condizioni di visibilità sono peggiorate per l'aumento della nebbia. Contattati ai soccorritori hanno comunicato di volere andare avanti, anche perché attrezzati. I carabinieri di Castelnuovo Garfaniana, in provincia di Lucca, alla vigilia di Capodanno, hanno sequestrato diversi chili di materiale pirotecnico messo in commercio abusivamente da un cinquantenne del posto, il quale è stato denunciato alla Procura per illecita commercializzazione di artifici pirotecnici. L'attività è stata possibile grazie a specifici servizi di osservazione. Secondo i carabinieri, l'uomo avrebbe commercializzato tali articoli senza alcuna licenza di esercizio, effettuando consegne in strada o previo appuntamento con l'acquirente. Il materiale consiste in batterie pirotecniche per un peso complessivo superiore ai limiti di legge. Siamo come di consueto ai dati sul coronavirus e nelle ultime 24 ore in Toscana 956 nuovi positivi. Il numero dei contagiati rilevati nella regione sale dunque a oltre 1.570.000. Effettuati 712 tamponi molecolari e 5.700 rapidi. Purtroppo si registrano altri cinque decessi, due uomini e tre donne con un'età media di 82 anni, residenti nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Siena e Grosseto. Il totale è a oltre 11.300. Prosegue l'aumento dei ricoverati, 457 in più di cui 16,4 in meno si trovano in terapia intensiva. Bisogna aver cura del lavoro che da decenni è scomparso dalle priorità del discorso pubblico, come se non fosse parte dello sviluppo, del benessere, del progresso delle comunità e delle persone. Lo ha affermato Paola Galgani, segretaria generale della CGL Firenze, che oggi a Scandicci ha aperto il decimo congresso provinciale del sindacato. L'aumento dell'inflazione del costo dell'energia, ha detto Galgani, produce una perdita di potere d'acquisto per i lavoratori dipendenti di una mensilità all'anno. Stiamo parlando di 1.500 Euro di mensilità media, ma ci sono tanti che guadagnano molto meno. Se a questo aggiungiamo la scelta della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse. Nei primi giorni dell'anno intendo convocare il tavolo del patto per il lavoro e lo sviluppo che abbiamo siglato con la Camera di Commercio con tutte le organizzazioni sindacali per implementare questo patto, per capire cosa abbiamo fatto e cosa c'è ancora da fare. Lo ha affermato Dario Nardella, il sindaco di Firenze, in un videomessaggio inviato appunto al congresso della CGL di Firenze, aperto oggi a Scandicci. Fra i temi citati da Nardella nel suo messaggio, la sicurezza sul lavoro, il gap da colmare con il mondo della formazione, la lotta alla disoccupazione, le opere pubbliche finanziate dal PNRR e ancora da realizzare. Dal 15 di gennaio arriveranno in Toscana voucher gratuiti per chi deve effettuare all'interno del sistema sanitario cicli di prestazioni diagnostico-terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da uno specialista, ma non ha modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. L'aiuto, spiega la regione toscana, è pensato e rivolto a chi soffre una condizione economica e sociale di fragilità e con un ISEE fino a un massimo di 18 mila euro. Torniamo alla cronaca. I carabinieri hanno arrestato due donne che a Impoli, in provincia di Firenze, avevano tentato di fuggire da un supermercato da cui avevano rubato generi alimentari per un valore intorno ai 100 euro. I militari sono stati chiamati dal servizio di sorveglianza interno che si era accorto di come le due, di 31 e 57 anni, avevano provato a togliere i sistemi di antitaccheggio da alcuni articoli per poi infilarseli nei vestiti. Ci saranno i mitici rockets e star mondiali come Cardenas e Anatoly e poi la stravagante eleganza del Circo Nero Italia e tanti nomi noti del mondo dello spettacolo. Questa è l'ultima notte, il mega evento con cui il DJ Mario Mangiarano darà addio alle scene sabato 25 febbraio al Tuscany Hall di Firenze. Parte del ricavato sarà devoluto a Citi e Onlus, centro di riabilitazione post-traumatico. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Il cielo sarà molto nuvoloso in mattinata, con possibilità di isolati pioviggini, parziali schiarite dal pomeriggio. Venti deboli in prevalenza meridionali, mari poco mossi, temperature massime in locale lieve calo, comunque superiori alle medie, fino a punte di 15 gradi. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, arrivederci a domani.